commento dal vangelo secondo luca 9 28 36 la trasfigurazione anche questa settimana come settimana scorsa tornano due tematiche fondamentali la preghiera e l'ascolto la preghiera avviene gesù si trasfigura gli occhi dei suoi discepoli due volte in preghiera stando in preghiera e poi il finale questa voce che tuona ascoltatelo questo è il mio figlio ecco che la preghiera e l'ascolto della parola di dio sono tematiche ricorrenti per la nostra quaresima e fondamentali chiaramente però questa settimana si aggiunge qualcosa di particolare perché la trasfigurazione nella seconda settimana di quaresima perché uscire dalla logica della sofferenza proprio quando siamo no nel cammino di quaresima io credo che il motivo sia un po questo è come quando noi vogliamo fare una gara vogliamo fare una salita in montagna una scalata non facciamo la gara o la salita in montagna per la fatica per goderci la salì la fatica ma lo facciamo per la vetta per la vista una volta che siamo in alto per la soddisfazione arrivare in fondo per la soddisfazione del traguardo dell'obiettivo non di certo della fatica ecco che questo questo capitolo della trasfigurazione vuole ricordarci un pochettino questo non è la logica della sofferenza che guida la nostra quaresima ma piuttosto è un'altra logica è quella della bellezza infatti ecco che si rivolgono a Gesù maestro è bello per noi essere qui ecco la bellezza Gesù e noi andiamo nel deserto per essere più belli per poter arrivare pronti al tabor e quindi come spunto concreto cosa potrebbe dirci questo vangelo innanzitutto come viviamo la nostra sofferenza la nostra sofferenza ci fa brutti ci fa male il lavoro abbiamo avuto un problema fisico non ho dormito la notte mio figlio ha pianto tutto il giorno ho litigato con mia moglie questa sofferenza la manifesto a tutti quanti quelli che mi incontrano con il muso o rabbia e nervoso e ho anche un piccolo sacrificio che devo fare lo mostro a tutti una giornata no oppure riesco a chiuderlo in me stesso e chiuderlo nella stanza chiudere la mia stanza e pregare in segreto se anche non manifesto a tutti gli altri la mia sofferenza il padre la conosce benissimo e se la tengo per me ma mostro solo il meglio di me agli altri sicuramente quella sofferenza in noi si fa preghiera e il padre la saprà accogliere saprà ascoltare allora ecco che posso scegliere se tenere per gli altri la mia parte migliore o se invece tenere per gli altri la mia parte peggiore ecco a seconda della sofferenza che ho questo è sicuramente l'invito della bellezza mi viene in mente non mi può non venire in mente san francesco san francesco è uomo della bellezza san francesco nella dopo la sua preghiera nella sua preghiera continua cantava la bellezza di tutto il creato persino di sorella sorella morte insomma ecco allora che la preghiera davvero trasfigura la nostra vita e ci permette ci rende più belli e ci permette di manifestare agli altri la nostra bellezza manifestare agli altri solamente la nostra bellezza per cui di nuovo l'invito di questa quaresima è proprio quella di crearci uno spazio di preghiera che non deve essere uno spazio lungo uno spazio pesante anche solo uno spazio di silenzio un breve spazio di silenzio in cui ascolto il mio respiro ecco che sicuramente dio gesù saprà riempire quello spazio di silenzio e farci più belli per poter poi manifestare questa bellezza agli altri buon cammino di quaresima in cui ascolto il mio respiro ecco il suo spazio di silenzio e la nostra preghiera le preghiera che le spazio di silenzio e il mio respiro ecco il suo spazio di silenzio e il fumo di